Torniamo a noi. Alcune donne trovano conferma di sé nel proteggere, accudire, soddisfare il proprio partner, mettendo però da parte i propri bisogni, spesso sono insicure, con scarsa autosteable. Gli umani hanno davvero un curioso bisogno di approvazione, signorina Popper, mentre lo trovo affascinante. E come si chiama questa sindrome, signor Beerus? Croce Rossina o sindrome di Wendy. Esatto. Maschi problematici come lei, signor Beerus. Inafferrabili come lei, signor Chumple. Candidati perfetti per essere soccorsi. Ti aiuto, stai meglio, mi sei riconoscente, mi ami. Capito? Le separazioni, per quanto dolorose, non ci uccidono. Spostiamo il focus sui nostri bisogni. Gratifichiamoci del bene che facciamo a noi stessi. Quando li studiamo i maschi, quelli sono come i cani, si strofinano su tutto e sono fottutamente stupidi.